ci stiamo avvicinando di soppiato allo yacht e ci prepariamo all'invasione ma non c'è nessuno amico sei rimasto da solo? amico mio? dove sei? ahah eccolo lì bene bene no è stato un fallimento ragazzi stacca stacca però mi avevano detto che quest'auto sapeva anche galleggiare scusami ma di solito le scale non sono fatte per salirci? che? no 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 oh oh devi morì devi morì no 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 sali si ma che cazzo uso? ma che cazzo sto usando? mori dove va? dove va? bene il mio filato buzzard mi porterà a destinazione però c'è un problema ma si sono nascosti anche loro al radar ah si vuoi giocare a darmi pari eh? credi di poter fottere con me? va bene vediamo un po' se ce la fai dai vediamo sono proprio curioso di vedere ah non spari eh non spari ti sparo io allora ti distruggo l'ho visto l'ho visto ho fatto un casino ma tra tutto questo non ho distrutto lui però è ciò che procederò a fare nell'immediato futuro prima è importante individuarlo devi morire devi morire GTA 2009 vitali hai una fantasia ragazzo mio che neanche io da bambino dov'è? no no non è qui ok qui sotto matona questo si chiama barare però questo è barare vuoi riprenderti il tuo yacht? dai è qui il tuo yacht lo puoi riprendere eh? lo puoi riprendere senza problemi da che lancio uno lì eh 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 ciao ma mori tu ma dove va? aha ma stai cercando di scappare per caso scusami ma chiedo scusa eh ma io con tutto questo impegno fai buttare il mio impegno all'aria? fai buttare il mio impegno all'aria il mio italiano è saltato per aria non ci provare non vale da lì in fondo mamma mia ha fatto un... che? mamma mia fa dei salti stranissimi tipo che dice? amico come va? mi sta pensando ma mi spara? cioè sto facendo apposta non spararmi oppure semplicemente sono io che sono talmente forte che riesco a evitarlo aha volevi prenderlo quello no? ah quello vuoi prendere? eh no neanche quello perché ho sponato una limo con torretta? non mi serve scusa i suoi compagni di squadra dove sono? sono in quattro uno per tutti tutti per nessuno ma sali in sto cazzo di roba ah perché su non posso salirci per quello dici ah no eh ci posso salire scusa il corallo ma come ti permetti? guarda questo infame ma arrivo fin lì con la barca con la barca no 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 salta 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 no 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 madonna amico però non ci vedi molto bene eh perché questa era difficile da mancare ho sentito in questi giorni che ci sono piogge di meteore in questa zona quindi io starei attento se fossi in te facciamo il sentire stupido madonna facciamo il sentire stupido mi lancia le portiere delle auto per distrarmi ma cosa fa questo? non è più la festa delle donne quindi posso ucciderti sono qui la mia povera barca l'ha distrutta no tranquillo eh tranquillo puoi vederci quanto vuoi a cambiare le armi mi sta scrivendo un messaggio ehi eh hai ma non riesce a salire nella sua stessa auto ma perché non è sua forse perché ho sponato una limo con torretta non mi serve ecco ripensandoci dopo la registrazione ho scoperto che quella era la mia limo con torretta che avevo sponato per errore a cui non potevo nemmeno accedere perché avevo sponato il buzzard e il fatto ironico è che lui cercava di accedere a una limo con torretta non sua io sono un semplice pedone amico il tuo compagno sta venendo ammazzato a ripetizione perché non intervieni ha deciso di entrare a forza zancudo non ti permetterò di rovinare forza zancudo non è riuscito no 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 non voglio non voglio non voglio torna indietro io stavo per entrare ma no momento una cosa cazzo ok scusa perché ma perché se io manco entro in sessione sento roba che si schianta fuori da casa mia perché il mio veicolo c'è o è là scusami che ci fai qui beh no non si distruggerà la porterò allo santos customs è qui vicino non si distruggerà la mia comet sr buonasera agenti c'è qualche problema c'è qualche problema agenti perché continuano a richiedere veicoli blindati scusa vi serve un'autopompa per spegnere il bruciore del culo che avrete ora no ciao ciao ma io mi chiedo il perché perché no nessuno ha visto niente nessuno ha visto niente mi spiace sono fan upton non posso risparmiarvi ehi amico sono pacifico guarda come l'oceano non ti sto sparando assolutamente vedi vedi guarda ti voglio solo inseguire sono considerami un reporter va bene voglio reportare la vostra missione ma non ti preoccupare non voglio assolutamente farti nulla di male ha capito mi sa i giocatori stanno votando finché tu sia cacciato dalla stazione comportati meglio sarai bandito ma io sono già un bandito sono il bandito mascherato io scusate stile accessori maschere no questa ok ora sono il bandito mascherato andiamo si si ciao bene bene scappa scappa ti conviene vieni qui non c'è nessun pericolo assolutamente nessuno merda sto distruggendo il mio centro operativo mobile so stronzo ciao la mina di prima no ciao 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 ciao